Luca Stefanoni voleva dire qualcosa? Sì, intanto volevo appunto citare questo discorso della porticina e della possibilità che i mobili siano stati spostati. Ma volevo puntualizzare che il fatto che si sia valutata questa ipotesi dimostra come in questo tipo di inchiesta veramente gli inquirenti stanno lavorando veramente bene. Mi sento io che sono sempre critico nei confronti dei grandi processi. Cioè, intanzitutto non sono caduti subito nella suggestione del mostro, cosa che tutto sommato era servita su un piatto d'argento, ci si poteva tranquillamente fermare lì, è successo, non scandalizziamoci di fronte a questa ipotesi perché è successo ed è successo tante volte. Sì, sì, è vero. La piazza che conta, conta tanto in questo genere di momenti. Vuole subito un colpevole. La piazza vuole un colpevole e non gli è stata data. Io devo dire che questo va riconosciuto e anzi bisogna veramente applaudire agli inquirenti. Detto questo, quello di cui noi stiamo parlando, attenzione però perché sono sempre, sempre ipotesi, cioè stiamo sempre attenti alla cautela generale e se no non servirebbero i processi. Cioè, questa storia finirà, la mia personale opinione è che non arriveremo ad una confessione di Sabrina. Non arriveremo ad una confessione totale. Neanche parziale. Neanche parziale. Poi mi posso sbagliare tra cinque minuti. Per la sua considerazione, certamente. No, perché molti esperti in effetti dicono che Sabrina è talmente ferrea nelle sue posizioni, talmente rigida, talmente forte, che non confesserà mai. Lei, colonnello, che pensa? L'ha detto anche la mamma di Sara. Dipenderà molto dall'economia processuale. In questa fase potrebbe esserci magari una confessione se dovesse essere accolta una qualunque forma di, come posso dire, accoglimento di un ravvenimento, di una confessione per motivi di strategia processuale. Questo è una cosa vera. Cioè lei dice che forse potrebbe convenirla ad un certo punto di questa vicenda processualmente parlando, magari le potrebbe convenire qualche ammissione. Questo può accadere, certo. Di Gianno Antonio. Io vorrei però richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che chiaramente ci dobbiamo concentrare sugli aspetti giuridici, quelli giudiziari, quelli della prova, eccetera. Ma non dobbiamo mai dimenticare che queste sono vicende drammatiche di tipo umano e di tipo personale. Qualsiasi sia il coinvolgimento di Sabrina in una vicenda orrenda di questo genere, sulla base di alcuni problemi propri risolti, la gelosia verso Sara, un attacco di ira, una incapacità di reggere il confronto tra ragazze sulla competizione per il fidanzato. Di fronte a un evento tragico di questo genere, Sabrina comincia un momento di riflessione e di costruzione di un modello nuovo di se stessa che è di fatto poi quello che in carcere si pretenderebbe di fare rispetto all'opera di ricostruzione psicologica e morale del reo. Quindi è vero che ci sono le confessioni fatte ad arte, è vero che ci sono strategie processuali, ma di fronte a fatti di questa gravità, noi non possiamo mai dimenticare il travaglio individuale. Lei conferma quello che ha detto il colonnello? Sì, nel senso che da una parte c'è l'attenzione alla strategia processuale, dall'altra c'è la vicenda umana personale. Pensiamo a Sabrina in questa cella, con gli occhi addosso di tutta la nazione, l'idea di aver avuto una qualche forma di responsabilità nella morte della cugina. E quindi quando pensa a se stessa e pensa al futuro... Lei dice che potrebbe, non dico crollare, ma potrebbe cedere in qualche modo. Potrebbe, lo dico dal mio punto di vista professionale, potrebbe cominciare a ricostruire o a costruire una Sabrina nuova. Perché è importante questa svolta, chiamiamola così, contenuta nell'ordinanza? Perché sostanzialmente si passa da un quadro in cui Sabrina avrebbe coperto il papà, ad un quadro invece in cui il papà avrebbe coperto Sabina. Questo in estrema sintesi, è questo che è importante e cambia sostanzialmente le cose. Allora... Ma qual era il rapporto... Allora, Ivano sostiene, il ragazzo conteso, sostiene che lui non ne sapeva nulla. Ma lui l'ha saputo di questa cotta che Sara si era presa per lui dai diari. Lui era all'oscuro di tutto. Ma che cosa è cambiato allora tra questa grandissima amicizia, questo legame affettivo fortissimo tra Sara e Sabrina? Che cosa è successo tra le due ragazze, professore? È molto interessante riflettere sopra la differenza di età tra le due ragazze. Le due ragazze non sono coetanee. Sabrina è più grande di Sara. Possiamo tranquillamente vedere che la loro relazione nel corso degli anni precedenti poteva essere quella tra una ragazza adulta, Sabrina, che diceva a Sara tutta una serie di cose, come è fatta la vita, come si doveva comportare, che tipo di consigli vediamo dalla cronaca che Sabrina è una persona che dettava legge anche dentro la famiglia, dentro casa. Quindi Sara fino a un certo punto era una docile allieva. Quando Sara sboccia alla vita, diventa una donna, anche se molto giovane, anche se assolutamente acerba, comincia ad attirare gli sguardi degli uomini, comincia a diventare, pur essendo lei assolutamente innocente, oggetto di desiderio, ecco qui che Sabrina, nel suo ruolo più maturo di donna, comincia a sentirsi minacciata, comincia a sentire che questa Sara non obbedirà più, comincia a sentire Sara come una variabile autonoma ma è indipendente dalla sua volontà e nasce quel terribile sentimento nell'animo umano che è l'invidia, che riesce in qualche modo, accanto alla gelosia, che riesce ad ottenebrare la mente e riesce a farci vedere una realtà totalmente diversa da quello che è la realtà di tutti i giorni. Stefano, voleva dire qualche cosa? Sono assolutamente d'accordo con questa visione, aggiungerei che alcuni dati, perché a me piace parlare sempre di dati e di fatti, dimostrano che il rapporto tra le due, oltre a questo rapporto di dominus e di soggetto dipendente, il rapporto dice anche che aveva delle sfumature vagamente perverse, possiamo quasi chiamarlo, cioè la ragazzina Sava che dice voglio andare, appena compio 18 anni, voglio andare via di casa, voglio andare a vivere da mia cugina. Ma non è molto perverso. No, era Sabrina, era Sabrina che lo diceva. Ho detto per la virgoletta, attenzione. Perché molto perverso non è questo. No, la perversione sta nel fatto che si crea un isolamento totale dall'ambito familiare, tutti gli altri non c'entrano, c'è questo rapporto esclusivo, per carità, nell'adolescente è assolutamente normale, non è Sara, sì ma Sabrina non è un'adolescente, cioè voglio dire è Sara. Il fatto che Sara... Ma era Sabrina a dirlo a Sara, però mi risulta questo, non era Sara a dirlo a Sabrina. Cioè non vi sembra perlomeno... Cioè è sempre la mammina, la sorella grande che dominava un po'. Non vi sembra una gestione dei loro rapporti particolarmente strane, io l'ho chiamata perversa perché intendo in questo termine tutto ciò che tenda ad escludere la vita normale di una ragazzina di quell'età e i rapporti normali che stanno con la cugina. Non vi sembra che questo si ricolleghi poi al momento topico che è quello che spiegava giustamente il professore, cioè l'esplosione della femminilità di Sara. Grazie a tutti.